50 anni fa la Svizzera introduceva il suffragio femminile. Finiva l'epoca in cui le donne non potevano votare. Alcune chiese riformate sono state pioniere del voto per le donne e hanno contribuito a sconfiggere la mentalità patriarcale. Io sono contrario al voto delle donne. Rimangano in cucina, non si occupino di politica. Se le donne potranno votare, noi uomini siamo rovinati. Noi donne svizzere riunite sulla piazza federale esigiamo il diritto di voto e di elegibilità a livello cantonale e federale.